ari eccoci becca amici bentornati è un nuovo vlog veloce sul mio canale perché sto provando a registrare diversi video ultimamente ma volevo iniziare una serie su una skyblock di minecraft ma diciamo prevalentemente per portare qualcosa di un po diverso pure sputtato un pochino sul microfono ma come dire non non avevo registrato l'audio in quel tutto il gameplay vedevo io che parlavo così a muto ecco quel gameplay che andava e avevo detto vabbè non mi ci impegno neanche a rifarlo c'è nel senso voglio dire subito dove dovrei ricominciare da capo la mappa e lo farò domani probabilmente volevo registrare anche dauntless ma da quello che ho provato a registrarlo un attimo però probabilmente il gioco è pesante per il mio pc è comunque buono il computer e se non si vede sto sudando che fa un caldo alla madonna sono un po strapezzato porca miseria vabbè capita fa un caldo bestiale oggi sto dicendo però dovevo registrare dauntless ma laggava c'è andava forse 30 fps quando io registro 60 ma laggava di brutto quindi ho detto vabbè poi tra l'altro pensavo che fosse totalmente diverso come gioco ma mi sono ritrovato un'altra cosa un bello inaspettata ma comunque devo provare a vedere se cambiando qualche impostazione lagga un po meno ma devo riprovare a registrare da anche quello ed anche per questo mi ritrovo a registrare questo blog qua veloce giusto per avere comunque per aggiornarvi su questo e per non lasciarvi senza video anche perché effettivamente lavorando anche non ho spesso di una sera stanco non è tempo né voglia voglio anche andare in palestra alle volte durante la settimana e quindi spesso non ho neanche tempo per per fare le cose per registrare mettermi a pensare il video deve devo fare come devo farlo insomma diventa una bella roba da farsi stamattina per fortuna devo verso rimasto a casa perché era chiuso il posto lavoro quindi tra poco tra poco un'ora e mezzo da anche ricominciare quindi sto video dovrà editarlo molto velocemente e caricarlo anche molto velocemente se voglio fare qualcosa e comunque detto questo niente questo è effettivamente quello che dovevo dirvi sto provando a registrare diverse cose ma tra che mi dimentico di accendere il microfono e il computer che essendo comunque nonostante sia comunque buono certi giochi sono comunque pesanti per quello dovrò comunque in qualche modo riuscire a trovare il modo per aggiornare la sistemazione quali dei pc insomma per migliorarlo un po' ma sto aspettando i pagamenti vari quindi nel senso come le componenti dei pc costano quindi è anche per questo uno deve non sono fuori fuoco ero fuori fuoco vabbè mi avete visto fuori fuoco ma comunque dovete ascoltarmi soprattutto non vedermi prevalentemente comunque detto questo non allunghiamo il brodo ancora perché le cose da dire effettivamente sono queste seguitemi sui social nel caso in cui voleste mai rimanere aggiornati di qualcosa nel caso ma comunque vedete se devo aggiornare qualcosa non è che sto pubblico direttamente su youtube almeno se devo dire se sto che ho un video su youtube aggiorno le persone su youtube nel senso no la connessione è quella poi che mi volete seguire su instagram seguitemi pure su instagram ma è a volontà vostra detto questo non ho più praticamente niente da dire è un video molto breve si caricherà anche molto in fretta spero anche per questo ha il problema anche questa connessione cioè vabbè insomma lasciamo perdere questo discorso lo sapete e niente ci vediamo ad un prossimo video sperando che riesca a registrare qualcosa detto questo ciao ciao ciao